Salve a tutti da Giuseppe Regozzino, siamo qui con un paio di cuffiette di Cellular Line, parliamo del prodotto che si chiama Mosquito, sono dotate di un cavettino per adattare in pratica la cuffia, la cuffiettina, il pippolino, lo spinottino al foro adatto al vostro lettore per quanto riguarda il sistema audio in questione vi permette in pratica di gestire con buona soddisfazione la vostra eventuale telefonata, avete quindi un microfono con il bottone per quanto riguarda la risposta della telefonata e avete poi un paio di cuffiette che vi portate a casa per una quindicina di euro, euro più euro meno, poi Cellular Line lo trovate ovunque dall'autogrill al negozio di rivendita di informatica sotto casa, pertanto il tutto sarà assolutamente facilmente reperibile. Per quanto riguarda la cuffietta in questione come vedete ha una assoluta buona finitura, veniamo adesso di zoomare sul nostro dettaglio, vedete che la finitura è assolutamente valida per una quindicina di euro di spesa, per quanto riguarda il nostro prodotto quindi viene ad essere esteticamente aggraziato e da un punto di vista funzionale fa il suo lavoro, come vedete qui abbiamo il microfono, qui abbiamo lo spinottino, qui abbiamo l'altra cuffia. Come lunghezza diciamo che è la comodità tradizionale, il fatto di avere il cavo piatto riduce leggermente la capacità di aggrovigliarsi da parte del cavo, per quanto riguarda il prodotto in questione il tutto funziona essenzialmente perché è particolarmente economico, quindi per la vostra attività sportiva va bene, non ci sono particolari ostacoli e il tutto funziona quindi senza ostacoli. Non dovete aspettarvi magari la qualità audio di un impianto che sempre nel form factor in ear può arrivare magari a costarvi 100 euro, quindi capite bene che in questo caso avete una qualità leggermente più contenuta. Tuttavia per una quindicina di euro di spesa se vi servono delle cuffiette per ascoltare della musica mentre andate a correre, a pattinare, a sciare o dove andate preferire a fare sport, questo prodotto fa il caso vostro. Se anche sudate nel momento in cui andate a utilizzarlo, visto il costo contenuto, visto comunque l'economicità di funzionamento, secondo noi fanno assolutamente bene il loro lavoro. C'entrano quindi l'obiettivo, vi portano ad ascoltare la musica con buona soddisfazione senza preoccuparvi eccessivamente magari di danneggiare le vostre cuffiette preferite. Il tutto quindi fa bene il suo lavoro e lo fa in abbinata a diversi dispositivi, insomma poi va a gusto vostro il dove andare a impiegare il tutto. Per quanto riguarda la cuffiette in questione non credo francamente serva aggiungere altro, il Cellula Line ha fatto un altro ottimo prodotto. Ne fa anche altri, ne vedremo altri, intanto questa recensione bisogna dire che è positiva. Per quanto riguarda Mosquito non c'è altro da mostrarvi, vi ringrazio dell'attenzione e vi saluto. Vi invito a seguirci attraverso sito web e formobiles.info e i relativi canali social che abbiamo attivato per voi. Siamo su Twitter, Facebook, YouTube e Dailymotion. Se ci seguite rimanete facilmente in contatto con noi e tempestivamente aggiornati su tutto quando andiamo a pubblicare per voi. Ora è tutto, un saluto, ci si vede un anno presto da Giuseppe Ragazzino.